Salve a tutti youtubers, qui è Calico84 e questa sera niente live. Oh mamma mia, allora sto per staccare la live, sostanzialmente l'annuncio di live che era stata rimandata questa sera perché la mia connessione non è a posto, ho provato per tutta la giornata a contattare il gestore del mio internet ma senza successo, alla fine ho provato per vie traverse, ho trovato una specie di assistenza di un partner dello stesso gestore, ho provato da lì a farmi passare un tecnico ma non sono riuscito, oggi bold, dormono tutti, hanno tutti l'influenza, stanno tutti facendosi le pippe, non lo so, però ahimè la linea non è a posto, o meglio ho la connessione, è di nuovo tornata potente come prima ma continua a essere ondulante per così dire, quindi su e giù, su e giù, su e giù, non riesco, ho fatto un test di stream, non riesco a streamare, quale che sia il bitrate che metto, è ondulante, non ce la fa, quindi viene uno schifo, sarebbero tutti crash e non ho nessunissima intenzione di fare uno stream con una qualità del genere, no, non esiste, quindi sono obbligato ad annullare lo stream e saranno annullati gli stream fino a lunedì, avrei voluto fare xcom, avrei voluto fare ftl, avrei voluto fare altro, non posso, mi dispiace tantissimo ragazzi, ma, ma, c'è un ma, ho dato un'occhiata ai risultati del sondaggio e il sondaggio dice, alla grande, torna a fare i video standard e le live durante la settimana riducile pure a 3 o 4, ok, vi ascolto ragazzi e farò così, difatti a partire dalla settimana prossima avremo le live martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato, domenica e lunedì non ci saranno live, perché sabato, domenica e lunedì farò video per il canale, quindi tornerà fallout, torneranno tutti quanti gli altri giochi, tipo subnautica, tipo tutti quanti i giochi che gli indie che provo, che mi vengono mandate le key, magari magari farò anche enderal, andrò un pochino avanti, non ne sono sicuro ma penso di sì, magari farò qualche episodio separato con il meglio di per dead by daylight e avanti così con queste cose ragazzi, naturalmente XCOM non sarà più nel weekend ma sarà durante la settimana, uno di questi 4 giorni tra martedì e venerdì ci sarà anche XCOM e basta ragazzi, mi scuso ma purtroppo non dipende da me, per questa sera non ci posso fare assolutamente niente, so che molti di voi mi odieranno ma piuttosto che continuare a dire rimandata domani, rimandata dopo domani, rimandata dopo domani, stop, la cancello, ne preparerò una nuova martedì e basta, lunedì massacrerò i miei gestori per farmi mettere a posto sta cazzo di linea in tutti i modi possibili e basta, ragazzi non so cos'altro dire, c'è un poster a testa in giù sulla sedia dietro di me, la stanza è buia, però sono abbastanza illuminato quindi va bene, ragazzi mi scuso per l'inconveniente, non è di peso da me ma lo risolverò, signori noi ci vediamo martedì e durante tutta la settimana con i video e le live, le live che continuano e i video che tornano. Buonanotte a tutti visto che sono le 8 mentre sto facendo questo video e spero di riuscire a buttarlo su per le 8 e mezzo o comunque prima delle 9 e ciao a tutti, bye bye!